Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, oggi vi mostrerò come completare l'ingresso al ride promessa del discepolo. Per avviare il nuovo ride dovremo andare sul torno mondo di Savatun e sulla mappa si troverà in alto a sinistra. Una volta che lo avvieremo all'atterraggio ci farà una cinematica di noi che atterriamo alle porte del ride. Finita questa piccola cinematica ci troveremo faccia a faccia con una proiezione di Savatun. Quello che dovremo fare è sconfiggere soltanto la proiezione e facendo questo scompariranno tutti i nemici e si apriranno le porte. Una volta aperte le porte quello che dovremo fare è semplicemente salire sulla store e farci il percorso fino a raggiungere una piastra volante. Piccola informazione dovete sapere che durante questo step potrete prendere una cassa segreta e sul mio canale troverete il video su come attenerla. Una volta arrivati a destinazione dovremo salire sulla piastra e avvieremo così lo step. Lo step consisterà nel dover uccidere i portatori della conoscenza. Uno perché ci permetterà di non subire il buff oscurità pervasiva poiché arrivando a 1x10 moriremo se non siamo dentro il raggio della piastra. E due per permetterci di raccogliere le piramidi con i fasci di luce. Per capire se le abbiamo raccolte avremo scritto a sinistra sopra la super conoscenza acquita se è una. Se sono 2 elevata e se sono 3 massima quindi ne potrete raccogliere un massimo di 3 per volta ciascuno. Una volta raccolto il massimo dovrete salire sulla piastra così facendo vi permetterà di raccogliere altre piramidi. Una volta raccolte tutte la piastra si muoverà e andrà al prossimo punto e questo lo dovrete fare per 5 volte. Dopo aver ricaricato per la quinta volta la piastra dovrete fare molta attenzione perché lei di nuovo ripartirà e in questo momento ci saranno tanti nemici tra i quali i paramiti e i cecchini che vi faranno male e rischierete di morire. Quindi fate molta attenzione se sarete sopra la piastra né mentre che si muove. L'ingresso del ride si concluderà con la piastra volante che entra nel tunnel. Quello che dovremo fare dopo è avvicinarci tutti alla porta e li si aprirà dandoci accesso all'interno per poter raggiungere la seconda fase. Il video guida termina qui questo è il primo dei 5 video guida su come completare il ride promessa del discepolo. Spero di esservi stato di aiuto nel caso in cui non abbiate capito qualcosa scrivetelo nei commenti io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale così vedrete altri contenuti che porterò a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi. Grazie Grazie